www.feyyaz.tv è un bel vertical limit è un bel vertical sono qui ad me in sé in anni lì c'è per l'ora anche non lo vedo lì non è portano dentro come è un po' 10 giorni di vita come i giorni di vita? no, non c'ho la 10 giorni di vita ha ragione un po' 2,5,5 3,5,5 3,5,5 3,5,5 e 3,5 4,5 5,5 è appena presa un mostro nuovo un mostro nuovo è un mostro nuovo Grazie. Grazie.